benvenuti cari fratelli e sorelle a questo momento di ascolto della parola del signore e come state bene e oggi il vangelo in questa in questo mercoledì della seconda settimana di questo tempo di natale oggi nella chiesa ricordiamo il santissimo nome di gesù ricordatevi che otto giorni dopo al bambino se le mette il nome il santissimo nome di gesù dio salva il vangelo di oggi è tratto da giovanni capitolo 1 versetti dal 29 al 43 sempre la testimonianza di giovanni il battista appunto in questa festa ricorderemo qual è la missione il nome di gesù rivela la sua missione allora vi ricordo che siete tutti invitati a iscriversi al nostro canale e scriviti e attiva le notifiche così puoi partecipare a questo canale evangelizzazione chiediamo al signore lo spirito santo per ascoltare questa parola come una parola di vita una parola che viene aiutarci a vivere questo tempo di natale nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amén dal vangelo secondo giovanni vedendo gioanni il battista venire gesù verso di lui disse ecco l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo egli è colui del quale ho detto dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me io non lo conoscevo ma sono venuto a battessare nell'acqua perché egli fosse manifestato israele giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battessare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere a rimanere lo spirito è lui che battessa nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di dio parola del signore bene allora dicevamo parlavamo che oggi celebriamo nella chiesa il santissimo nome di gesù gesù vuol dire dio salva già ve salva e allora è questa la missione di cristo salvare e di questo da testimonianza il battista gioanni il battista e continua oggi a testimoniare gesù dicendo la missione di cristo è quella dell'agnello di dio l'agnello che sarà portato al macello è l'agnello sul quale saranno perdonati i nostri peccati ecco l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo sappiamo bene che nella liturgia questo è il momento previo alla comunione questo l'invito a contemplare è colui che ci salva gesù nostro signore e allora questa è la prima cosa da vedere la figura importantissima anche dopo il tempo di avvento anche durante questo tempo di natale giovanni il battista perché perché tante persone venivano da lui a far a farsi battesare perché perché riconoscevano in lui la somiglianza con il profeta elia e che c'entra il profeta elia perché profeta elia nove secoli prima di gioanni il battista era uno che ha invitato al popolo alla purificazione a uscire dalla idolatria per ricondurre i loro cuori alla fede di israele alla fedeltà del signore allora gioanni il battista il suo compito la sua missione appunto questa dire elio è colui del quale ho detto dopo di me viene uno che avanti a me perché era prima di me lui dice io non lo conoscevo ma sono venuto a battezzare non lo conoscevo non sta dicendo che voi potete capire era il cugino ma la missione di cristo è questo che non conosceva perché lui conosceva la sua la sua missione che era in funzione della venuta del messia ecco ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato israele dicevamo ieri dobbiamo capire qual è il nostro posto qual è il nostro posto e dobbiamo capire anche qual è la nostra missione siamo noi chiamati a essere strumento un strumento concreto perché affinché gli uomini si incontrino con cristo siamo noi come gioanni il battista che manifestiamo la nostra fede perché sia manifestato Gesù agli uomini e questa è la nostra missione o no o qual è la nostra missione dobbiamo capirlo in questi giorni di natale dobbiamo sentire ancora con più forza questa questa indicazione di giovanni il battista ecco l'agnello di dio ecco dio che è avvenuto abitare in mezzo a noi è l'agnello di dio che togli il peccato del mondo se l'ho detto anche nella promessa no nell'annuncio dell'angelo gabriele a maria e allora ricordiamoci qual è la nostra missione qual è la missione che ci ha donato il battesimo appunto stiamo parlando del battes del battista importanza del battesimo in questo giorno del nome santissimo nome di gesù sapete che si apre tutta la liturgia battesimale con il nome con il nome ecco perché importantissimo il nome mettere i nomi cristiani ai bambini e allora dico questo perché perché dobbiamo chiedere il dono dello spirito santo per entrare in questa missione senza lo spirito santo non possiamo fare nulla e allora vedendo questo questo lo testimonia giovanni il battista lui ha visto io dice colui sul quale vedrai l'ha detto colui che lo ha inviato a fare questa missione colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo e allora noi abbiamo ricevuto non il battesimo di giovanni non il battesimo di conversione solo se non abbiamo ricevuto lo spirito santo che cambia la nostra natura che perdona i nostri peccati ma siamo consapevoli di questo ecco oggi nel giorno del santissimo nome di gesù ricordiamoci ricordiamoci che il nome che ci hanno messo è in funzione di una missione siamo figli di dio viviamo come figli di dio e portiamo avanti la missione che ci ha fidato il signore va bene se non l'abbiamo ricevuta oggi è il tempo per convertirci e per accogliere questa missione la missione importante di far presente in questa generazione che dio salva che ha inviato il suo figlio per salvarci e questo è il natale il signore vi benedica nel nome del padre del figlio dello spirito santo a me bene cari fratelli vi invito come tutti i giorni non dimenticare di lasciarci un mi piace iscriverti al nostro canale e attivare le notifiche farlo ci aiuta se voi lo fate ci aiutate a evangelizzare così possiamo arrivare a più persone bene allora invito anche a condividere questo video con più persone a lasciare le vostre preghiere le vostre preghiere qui sotto nella zona dei commenti preghiamo gli uni per gli altri stiamo pregando sempre per la salute di tante persone che hanno bisogno e i nostri cari i nostri amici preghiamo sempre lasciamo qui sotto e anche anche auguri e del buon anno se ancora non l'avete fatto al canale a questo canale allora un abbraccio a tutti ci vediamo domani a dio piacere